Partiamo subito alla grande. Allora, cosa stavo dicendo? Chi siamo noi? Noi siamo il Pug Romagna, siamo un PHP User Group, cerchiamo di essere itineranti per tutta la Romagna, come il nostro nome suggerisce. Ci spostiamo prevalentemente tra Faenza, Rimini, Cesena, che ad oggi sono le città che ci ospitano, ma se avete delle altre postazioni dove possiamo venire a fare un evento, su GitHub potete proporle. Facciamo parte del GRUSP, che da tanti anni si occupa di organizzare conferenze in giro per l'Italia, le più famose PHP Day, JS Day, Symphony Day, Laravel Day, Angular Day, CSS Day e tante altre altre che potete trovare sul loro sito. Come Pug, che cosa facciamo? Noi cerchiamo di fare un incontro ogni mese, cerchiamo anche di organizzarci con un po' di mesi di anticipo, fortunatamente sappiamo già cosa faremo a maggio, grazie a Manuel che è qui in goal con noi e l'evento lo trovate sul nostro gruppo Meetup. Su Meetup trovate tutte le informazioni di ogni evento e su GitHub invece trovate tutte le proposte che sono state fatte nel corso dei due anni di attività del Pug, potete votarle, vi incentiviamo a votarle perché cerchiamo di organizzare le più votate, potete proporle se ci sono degli argomenti nuovi di cui volete parlare, potete proporvi come speaker se c'è qualcosa in particolare che vi interessa proporre agli altri come ha fatto Giuseppe che oggi è il nostro speaker. Poco poco altro, cerchiamo di fornirvi qualche benefit in quanto partecipanti ai nostri incontri che normalmente sono fisici, quindi abbiamo avuto la possibilità di comprare i libri di PHP 7 scontati, abbiamo, attiveremo delle licenze JetBrains che saranno sorteggiate per i partecipanti dei prossimi incontri, così come sconti sui biglietti del GRUSP per l'appunto e come qualcuno fa notare in chat, casse di birra se e solo se superiamo i 20 partecipanti se il virus ci permette di fare la birra perché al momento ci sono le bottiglie ma non c'è la birra dentro. Detto questo, vi ricordo brevemente, questa call è registrata, quindi vi invito a non attivare il video, non attivare il microfono, soprattutto quando parlerà Giuseppe. L'incontro prevede già delle pause che saranno fatte durante la parte teorica del talk e prima e dopo la demo che farà Giuseppe. Se avete bisogno potete scrivere in chat a tutti, potete contattarmi privatamente, io sono Nicole, c'è anche Alessandro Minoccheri che è coorganizzatore cost della call, se avete bisogno potete contattarci entrambi. In alternativa la chat è un ottimo strumento per segnarvi le domande e che poi cerchiamo di analizzare durante le varie pause. Se è tutto chiaro e nessuno ha qualcosa da dire come i matrimoni, io passo la palla a Giuseppe e mi muto. Io vedo adesso la chat perché era nascosta con lo share e saluto a tutti e qualcuno ovviamente ci conosciamo già dagli incontri quelli fisici. Gli altri, tipo il mitico Wapone, Michele Fantetti già lo conosco, Giovanni già lo conosco, c'è anche Andrea Parmeggiani, alcuni sono conoscenze vecchia data. E prima volta al talk virtuale, chiamiamolo, e in generale prima volta che faccio dei talk nel Pug, ma anche proprio non ho mai fatto talk negli eventi o in generale insomma in gruppi eccetera. Ho fatto solo al massimo dei training, quindi perdonatemi se magari o vado troppo veloce o vado troppo lento, se sono troppo palloso scrivetelo, se è troppo palloso e quindi allora vado di conseguenza. E direi di iniziare se non c'è, non ci sono domande particolari. Allora, ne faccio un paio per capire, cioè per livellare un po' il talk e potete rispondere con, c'è la manina tipo raise your hand, una cosa di questo tipo. E la domanda è, uno, chi è che non conosce Docker? Cioè, non ho mai visto Docker, non so che cosa sia e è importante saperlo perché tutto il discorso pipeline si basa su Docker. Quindi, chi non lo sa, è un po' un problema, nel senso, magari glielo devo accennare. Non so adesso... Se non vedo niente vuol dire che lo sapete tutti, se no, eventualmente, come in ogni caso, resto a disposizione nei miei canali privati, oppure scrivetelo in chat. Il talk viene registrato, quindi magari se qualcosa lo perdete per strada lo potete sempre riguardare una volta che l'abbiamo caricato. E scusa Nicole, tu vedi il yes, no, raise your hand? No, non vedo nulla. Possiamo provare a usare le reaction che ci sono nella barra in fondo, forse sono più facili da vedere. Eh, non so, pollice, pollice in giù, chi è che non conosce Docker? Per capire... Non c'è il pollice in giù, c'è soltanto il clap e il pollice in su. No, io vedo solo il clap e il pollice in su. Allora io sono l'unico che c'ha il pollice in giù. Bene. Abbiamo pareri discordanti in chat. Vabbè, chi ha messo il pollice in su do per scontato che sappia cosa sia Docker, allora. Facciamola così. E tutti dicono, si vedono i vari pollici. Sa sul muro, infatti. Ah, ok, credo che dipenda da chi usa, forse chi usa il client e chi sta usando l'applicazione web. Ok. Comunque... Facciamo prima, scusate se intervengo. Chi non conosce Docker lo scrive in chat, censureremo i nomi per evitare... È giusto per capire, perché se non sapete cosa sia Docker, più che altro un minimo di funzionamento, non tanto se l'avete utilizzato meno, ma se lo conoscete, da lì capirete o meno il talk, se no diventa veramente un problema. Nel senso, dai, magari io parlo, ma questo che sto dicendo non si sa. La chat è silente, quindi... Vabbè, do per scontato. Dai, ragazzi, nel senso, se no stiamo qui a aspettare... Ripeto, verrà tutto registrato. Per qualsiasi domanda poi mi potete contattare anche privatamente. Per chi non mi conosce del gruppo, io sono un freelance, lavoro da circa dieci anni su Magento, uno e adesso due. Principalmente sono sviluppatore back-end. Non amo il front-end, lo faccio solo se è strettamente necessario. Ultimamente mi sto divertendo con Laravel come framework rispetto a Symfony, perché magari è più flessibile sotto certi aspetti. E faccio anche della parte DevOps, soprattutto quando devo fare, in questo caso, i deploy, i test, o perché magari non ho molti amici sistemisti. Ecco. Altra cosa, chi è sistemista puro, vecchio stile, oggi mi manderà a quel paese, però chi è invece la nuova generazione, quindi DevOps, magari questa cosa gli piace un po' di più. Iniziamo subito mettendo l'indice delle cose di cui parleremo oggi. Il test è tutto in inglese perché solitamente viene anche riutilizzato eventualmente in talk internazionali, si spera. Però se per caso uno poi lo vuole ripresentare a tipo il PHP Day, ovviamente è meglio metterlo in inglese. Quindi ci sarà la prima parte che è una spiegazione delle pipeline e le differenze fra GitLab e BitBugget, poi una fase di domande, poi spiego cos'è deployer PHP, domande su deployer PHP e infine la demo. Come scegliere il provider delle pipeline è più una cosa soggettiva e non c'è moltissimo da parlare, però la metto come ultimo punto del talk. Quindi iniziamo. Chi ha bisogno delle pipeline? Di base, vedendo l'elenco qui, diciamo un po' tutti, chi sviluppa nei progetti, sia gli sviluppatori sia i DevOps. Ho messo sysadmin ma magari qualcuno più purista dirà no, no, non va bene perché è un layer di virtualizzazione e magari non gli piace. Comunque, di base l'utilizzo secondo me deve essere fatto un po' da tutti. Poi vedremo come utilizzarlo in base al ruolo che si ha. Cosa sono queste cavolo di pipeline che uno sente in giro e magari dice non lo so? La definizione secondo me più adeguata è quella che dà GitLab, che di fatto è uno dei primi servizi che l'ha messa in circolazione. Componente top level per continuous integration, delivery e deployment. Cioè, chiamiamolo software, che serve sia per continuous integration, nel senso solitamente utilizzato per deploy continui, con test isolati. Questo comunque lo vediamo qui là. La mia spiegazione molto semplice e spicciola è un tool che tu puoi configurare tramite un file YAML. Proprio molto semplice. Se uno mi dice che cos'è, è un tool che tu puoi configurare con quel file. Di fatto, sia BitPacket che GitLab, l'unica configurazione che ti permettono è tramite questo file. Il resto è tutto nel loro back-end, ma sono opzioni tipo variabili oppure chiave SSH, ma non di più. Feature principali. Le cose che potete fare con le pipeline, di fatto, sono quelle che potete fare in un qualsiasi Docker container. Ecco perché, vi dicevo prima, chi conosce Docker o no. In generale, uno la può vedere in modo più astratto come eseguire dei task in un server virtuale. Ora, se uno non sa che cos'è un Docker container, uno la può mettere. Ok, un server virtuale. A questo io ci posso agganciare dei servizi esterni, come se fosse un server vicino, quindi un altro container Docker solitamente, e nella maggior parte dei casi è un database. Quindi io eseguo dei task, mi serve un servizio staccato, utilizzo un servizio per i database. In generale, cosa ci posso fare con queste pipeline? Posso creare una sequenza di task. C'è fra GitLab e BitBugget, lo chiamano in modo diverso, c'è chi li chiama step, chi li chiama task. Il nome è a discrezione del servizio. Di fatto sono delle azioni che vengono eseguite in sequenza. Cosa ne fa solitamente uno sviluppatore e cosa ne fa un DevOps? Lo sviluppatore solitamente le utilizza per fare i test. Quindi possiamo sì fare i test noi nel nostro PC, ma in una pipeline diventa molto più facile e automatico, perché ad ogni push del codice, queste partono da sole, quindi non dobbiamo stare ogni volta a ricordarci, ok, lanci test in locale, oppure devo aspettare che i test finiscono perché magari non posso cambiare il codice. E quindi questo è uno degli utilizzi principali. I DevOps le possono utilizzare per fare per esempio il deploy. Poi, quando utilizzare le pipeline? Per me sempre, cioè in ogni progetto che ho. Poi c'è, ok, ma io non posso mettere i test, non c'è budget per i test. La storia budget per i test la lascio altri talk. Il solo mettere coding standard in un progetto è già un qualcosa che può aiutare. Minimo ma può aiutare. Cioè, il coding standard, tipo il PHP Mass Detector, che ti dice che una variabile non è utilizzata, è già un qualcosa. È quel poco, ma è un qualcosa. Quindi per me vanno utilizzate sempre. Poi, le alternative alla pipeline, quello è un altro discorso. Però un meccanismo automatico che ti faccia dei controlli ci deve essere sempre. Dove possiamo trovare queste pipeline? GitLab e BitBugget sono i più famosi. GitHub l'ha introdotte da poco con GitHub Action. Altrimenti ci sono servizi storici tipo CircleCI e TravisCI. Sicuramente l'avete visti nei progetti open source, perché per i progetti open source sono gratuiti, associati a GitHub. Perché utilizzare le pipeline? Prima cosa, sono integrate nel repository. Questo vuol dire che avete tutto uno storico del codice che cambiate e non dovete metterle in altri posti, avere software diversi, trovare file. Sono lì nel repository, quindi è dentro il vostro codice. Molto semplici da usare. Perché? Perché di fatto quello che scrivete in una pipeline sono dei comandi che lancereste nelle vostre shell, diciamo nel server oppure del PC. Chi sviluppa su Windows purtroppo non so, cioè per me è un mondo a parte. Come vi posso dire? Se sviluppate su Windows o siete front-end e ve la concedo, se no non so come facciate a sviluppare su Windows col PHP, sinceramente. Quindi vabbè, poi gli insulti a parte. Terzo punto di perché utilizzare le pipeline è non hai bisogno di server esterni o in generale, insomma, di configurazioni particolari che ti deve fare un esperto perché uno magari non è in grado. Cioè di fatto devo fare due test semplici? Ok, li scrivo nella pipeline, il git push parte in automatico e faccio questi test. Non devo configurare nulla in più. Quarto punto è, se per voi Docker è il futuro, nel senso ormai il mondo si sta spostando verso questa tecnologia, le pipeline ne fanno parte perché giustamente girano di fatto in dei container Docker. C'è sempre la discussione con i sistemisti di questo Jenkins. Ora, io non ne voglio fare una polemica. Jenkins è un software per carità ottimo, eccetera, magari per chi sviluppa in Java. Però, secondo me, se io ho un progetto PHP, magari anche piccolino, tipo un middleware, non posso metter su una macchina Jenkins per fare dei test e del deploy. E in ogni caso, lo vediamo successivamente, ci sono tutte delle problematiche oppure delle latenze proprio fra la configurazione e l'applicazione. Se io non so configurare Jenkins perché è tutto quel software complesso, quanto ci metto a caricare, per esempio, i miei test? Digli, ok, devi lanciare questo PHP Unit, mi devi fare quest'altro test così. Cioè, ogni volta devo stare lì col sistemista a dirgli i task che deve fare. Con le pipeline vi configurate tutto da soli in un solo file. Poi lo vediamo. Ultima cosa del perché, test isolati. Questa è una cosa molto importante perché quando uno magari lancia dei test nel proprio PC, non tiene conto dei file ignorati dal Git, tipo chiavi di accesso a repository privati, non lo so, file di env, quelli di configurazione. I test isolati sono la certezza che quello che andate a fare, i test, insomma, che andrete a fare, hanno tutti i dati coperti al 100% dal, o dal repository o dall'azione che fate per fare il setup dell'ambiente. Un classico caso è come fate a fare test di integrazione nel vostro PC. Ogni volta dovreste distruggere e creare un database, si può fare, non è che non si può fare, non dico questo. Dico solo che è molto più comodo farlo nei pipeline perché ogni volta da solo lui mi crea un ambiente vuoto, mi crea il database, gli dico quali dati di esempio mettere e lanciare dei test. Poi, se uno non sa cosa sono i test di integrazione, magari quello lo spieghiamo a parte. Allora, Andrea Zaccheroni, guarda le domande le facciamo proprio appena finito, appena arrivo al primo step di domande, così almeno le facciamo tutte insieme, magari hai visto, se no dopo magari le varie risposte possono essere nei prossimi slide, così siamo... intanto c'è nella chat, quindi le riprendiamo tutte. Differenze principali fra GitLab e Bitbucket. Quella, diciamo, in assoluto che contraddistingue GitLab a Bitbucket è dove vengono eseguite queste pipeline. Essendo dei Docker container, di fatto, con GitLab tu le puoi eseguire dove vuoi. Quindi, li chiamano GitLab Runners, sono nient'altro dei agenti Docker, chiamiamoli, che tu puoi installare nel tuo PC o nel tuo server o utilizzare quelli di GitLab e questi vengono eseguiti. L'unica differenza è il costo. Se tu utilizzi i tuoi runners non paghi nulla, perché la pipeline viene eseguita nel tuo PC o nel tuo server. Se invece utilizzi quelli di GitLab, scalano i minuti, solitamente mi sembra 2000, quello gratuito, scalano i minuti per i minuti mensili. Bitbucket invece le esegue nel loro cloud, quindi non puoi avere accesso, non puoi configurarli, eccetera. Allora, creare una catena di task. Allora, GitLab nasce nativamente per creare una catena di task come le volete voi e in alcuni casi anche in parallelo. Poi li vediamo. Bitbucket, la catena di task la puoi creare con dei trick, non in automatico. Perché di base Bitbucket esegue i task in sequenza e poi li vediamo con la loro logica non molto flessibile, a mio avviso. Poi, gli stage, cosa sono gli stage? Non lo staging che è il server di prova, gli stage sono le fasi. GitLab ti permette di creare delle fasi che vuoi tu, dargli un nome che vuoi tu, tipo test, build, deploy, post deploy, quelli che vuoi. Bitbucket li ha fissi. Dovrebbe essere test, staging, production. Questi sono gli ambienti, di fatto li chiama deployments. Adesso vado un attimo a memoria. In entrambi i casi potete utilizzare un'immagine Togar per ogni job differente, ogni task. e quello che ne resta dell'esecuzione viene chiamato artefatto. L'artefatto molto spesso è, per chi fa i deploy, è lo zippone che viene caricato nel server. Questo è molto, molto, detto molto, molto semplice. In generale Bitbucket ti permette di passare da un job all'altro tutto lo zip elaborato. Immaginate che voi stiate facendo delle, chiamiamole compilazioni, oppure delle operazioni, avete creato dei file e li volete passare al task successivo. In GitLab non lo puoi fare, in Bitbucket sì. In GitLab puoi solo scaricarti tutta l'istanza Docker per capire se c'è stato un problema. Bitbucket invece te lo fa scaricare, ma te lo fa passare anche nei job successivi. Ultima cosa, chiave SSH. Per chi magari lavora sul Mac o su Linux, in Bitbucket le chiave SSH vengono configurate da pannello, in GitLab le devi fare tu tramite le variabili d'ambiente, cioè ti permettono di mettere delle variabili. Ora, chi sa scrivere il script bash, magari gli è più chiaro. Io posso da pannello GitLab posso dire che questa variabile ha un valore X e lo posso leggere, posso passare allo script. Poi questo magari lo vediamo. Comunque in generale questo è più per fare i deploy oppure per accedere a vari server tipo i repository privati. In GitLab mettere la chiave SSH, poi magari lo vediamo, deve essere fatto in modo manuale. È spiegato nelle guide, quindi di fatto voi avete già uno script su come fare, ma non parte da pannello. Bitbucket sì. Ultima cosa che magari può essere utile. In Bitbucket le operazioni sono in sequenza, sempre. In GitLab possiamo fare anche, diciamo, dei salti e dire, ok, in caso di fallimento fammi quest'altro task. In caso di successo esegui quest'altro task. E non è detto che siano in sequenza. Ok, passiamo ecco alla prima fase di domande. Quella che diceva Andrea Zaccheroni. L'on-premise. Teoricamente GitLab on-premise ti permette di avere le pipeline. Questa è la differenza. Bitbucket invece no. Quindi io voglio on-premise, va bene. Prendo GitLab. Perché ha questi runners, i runners li metti nel tuo server. Quindi hai la stessa versione identica del SAS, di gitlab.com. Quindi non cambia poco. Se invece, continuo a rispondere un attimo ad Andrea e poi dopo passo a quella ad Alessandro. Se invece il tuo on-premise è un altro software, quello purtroppo è un problema diverso. Allora, Alessandro dice I GitLab shared runners sono sicuri? Eh, bella domanda. Ti direi teoricamente no. Ecco perché loro ti dicono guardate, utilizzate i vostri, quegli shared sono per chi magari o non ha dati sensibili all'interno, oppure, non lo so, nel senso vuole risparmiare. Sicurezza al 100% non si ha mai. Ora anche lì sono, quando uno esegue la pipeline, è un crea e distruggi. Io creo il Docker container, esegue e poi distrugge. E tutto quel dato lì viene messo nell'artefatto, quello che dicevo prima. Quindi teoricamente l'unica parte sensibile ce l'hai quando viene eseguito questo container. Se per caso bucano il runner, è solo in quella fase. Una volta finito, che la job viene chiusa, GitLab chiude tutto, fa l'artefatto. e puoi anche decidere di non salvarlo e quindi lo butta via. Quindi in quel modo hai una sicurezza maggiore. La sicurezza, chiamiamola al 100%, non ce l'avrai mai. Però al massimo uno si può eseguire i runners nei propri server, nel proprio PC. e non lo so se ci sono adesso altre domande. Faccio fatica a capire, prego Alessandro, faccio fatica a capire un attimo se sono andato o troppo di corsa o troppo lento perché senza feedback è un po' un problema. Però la parte di deployer la vediamo dopo, così come gli esempi. E l'ho scritto anche qua. Qualsiasi cosa mi potete contattare privatamente. E non so se adesso per questa parte di pipeline avete altre domande. Allora, GitLab Action l'hanno messo da poco. Io non l'ho utilizzato, l'ho solo scritto come lista. Qua, GitLab Action. Di fatto è la stessa cosa a quella che ha Bitbite o GitLab. L'ho introdotta perché? Perché ovviamente ce l'hanno tutti quanti. Ok, facciamola anche noi. Non l'ho utilizzata perché andando a guardare anche i piani è quello più costoso. Ha anche lui 2000 minuti gratuiti, mi sembra. Però GitLab è quello più costoso. Lo devo testare. Il funzionamento credo sia identico. Mi sembra anche lui con file YAML, con Docker, eccetera. Quindi questi cinque servizi che vedete bene o male funzionano tutti uguali. Tranne Travis CI. Travis ha una cosa in più rispetto agli altri che è la matrice. Cioè esegue le pipeline in parallelo. Cioè pipeline intere. Mentre gli altri eseguono una pipeline per volta, Travis le esegue più in contemporanea. Quindi ti lancia più Docker container insieme. Ecco perché costa pure anche un sacco di più. Non so se ho risposto a quella d'Alessandro. Ok. Dunque. Andiamo avanti. Non so se avete altre domande, se no io passo avanti anche perché fra la demo e finire deployer, insomma, tutte le domande sicuramente magari le facciamo anche alla fine. Bene, con la demo verranno fuori forse altre domande. O non lo so adesso. Passata mezz'ora, dai. Se non ce ne sono altre io vado avanti. Tu Nicole che dici? Vai, vai. Segui. Allora, deployer php. Una volta capite bene o male che cosa sono le pipeline o in generale non è che bisogna utilizzarlo per forza insieme alle pipeline. Uno dice, ma che cos'è questo deployer php? Per come l'hanno scritto nel loro sito ufficiale, è un tool che ti permette di darti out of the box alcuni comandi per i maggiori framework o CMS. Di fatto è la copia in php di Capistrano. Per chi non sapesse che cos'è Capistrano, è un tool che per il 90% di casi serve a fare dei deploy. Perché io ho scelto deployer php? Perché Capistrano è scritto in Ruby. Deployer php è php e non voglio staccarmi troppo dello studiare mille mille linguaggi. Sostanzialmente, deployer php, per chi conosce Symfony o Laravel o Magento, è un tool che viene eseguito con la Symfony Console. Tu puoi eseguire dei task e delle operazioni come se fosse una Symfony Console. L'inserimento di questi task e la creazione di task successivi vengono fatti secondo un suo sistema, ma che poi vediamo è molto molto semplice. Cosa in più? Di base, deployer php serve a creare un sistema di cartelle che si chiama, io la chiamo release folder structure, cioè crea un sistema di release per switchare nelle varie... Ora, questo non so nemmeno come farvelo capire. Scusate, questa è la prima volta che faccio questo speech. Di base, l'utilità principale è creare delle varie release per il proprio codice e poter switchare fra questi in modo molto molto rapido. Tutte queste operazioni, deployer php ce le ha già integrate. Sono task che vengono già creati di default. Poi, uno è libero di utilizzare la sua struttura o crearsene una propria. Teoricamente, tutto quello che fa deployer php lo potete fare benissimo con degli script. Vostri script, eccetera. È solo un tool in più che ha delle cose prefatte. Cioè, volete farlo... Volete fare il deploy per conto vostro? Lo potete fare benissimo. Fate degli script che o php o bash, che si collegano al server tramite ssh e avete fatto la stessa cosa. Questo ve li dà già belli che pronti. Come si configura e come è strutturato una cartella per deployer? Di fatto lo potete installare o a livello sistema operativo oppure tramite composer. Perché di fatto è una libreria composer. Cioè, è una libreria che può essere richiamata tramite composer. L'unico file di configurazione che vi serve è questo deploy.php. Questo file in più host può essere aggiunto ma può essere integrato qua dentro. E è quello dove noi ci andremo a scrivere i server dove noi facciamo le operazioni. Anche qui può esserci o meno perché eventualmente tu puoi utilizzare deployer per eseguire task nel tuo pc. Tipo script di provisioning oppure, non lo so, qualsiasi altra cosa che mi viene in mente. Con la demo tutte queste domande oppure tutta questa teoria magari è molto più chiara. Oddio, qui domande su deployer magari è un po' più difficile. Non so se avete domande specifiche su deployer. Sicuramente con la demo magari qualcosina in più riuscite a capire. Scusate se magari l'ho fatta un po' difficile o non so se l'ho spiegata benissimo. Se avete qualche domanda in particolare la facciamo adesso. Come si integra la vediamo nella demo. Cioè di fatto è io eseguo i comandi nella pipeline. Questi comandi non sono nient'altro che andare nella cartella deploy e lanciare questo comando. Il comando viene lanciato come se fosse la symphony console. Allora è per Andrea Zaccheroni. Se non sai come funziona la symphony console allora dopo magari lo vediamo. Però di base si integra nel proprio progetto. La pipeline esegue questi task. I task adesso li vediamo. Di fatto è un componente nel tuo progetto. Il progetto demo è un Laravel vuoto. Allora domanda è... Sì, sì, deployer nasce come di fatto un package composer, una dipendenza composer. La puoi mettere o nel tuo progetto principale o separato. Dipende. Io lo metto solitamente separato perché lo utilizzo solo per fare deploy o operazioni, insomma, esterne al progetto. Però sì, è un file che puoi gestire da composer quindi lo puoi mettere dove vuoi. Utilizzarlo anche nel tuo progetto se vuoi fare... Tipo ti serve da copiare dei file. Hai un task e devi copiare dei file. Non vuoi utilizzare, che ne so, il copy di PHP. Vuoi utilizzare un task che fa deployer, lo potresti fare. Ha tutto il namespace. E il repository della demo sì, sì, sì. Sia le slide, sia il repository della demo. Le slide saranno caricate nel repository del Pug. La demo, essendo un po' più lunga, cioè più grande come progetto, è nel mio utente personale su Github. Quindi, comunque, lo trovate lì. Detto questo, io passerei alla demo. Non so se avete altre domande. Nel frattempo, comunque, le potete scrivere. Allora, questo lo legiamo. Allora, questo è un progetto unico che ha due file di configurazione. A sinistra avete quella di Bitbucket, a destra quella di GitLab. Vediamo se la devo zoomare un po' di più. Lo vedete bene? Nicole, scusa, si vede bene? Troppo zoomato? Io vedo discretamente. Al massimo ti consiglierei di stringere un po' la colonna di sinistra. C'è un po' più spazio. Non so, qua... Ok. Comunque, in generale, il codice comunque lo lascio a disposizione. Allora, partiamo con GitLab, che è quello... Che anche qui le considerazioni su quale scegliere o meno lo vediamo magari dalla demo. Io personalmente preferisco GitLab, sia per il discorso dei runners, perché voglio decidere io dove seguirlo, sia per il discorso di configurazione del file, che magari vedrete qua. E qua poi, dopo quella sinistra di Bitbucket, capite che di fatto non lo trovate nella documentazione ufficiale se non nascosto, tipo clausole dei contratti. Invece GitLab è molto molto più chiaro. Allora, non mi metto a fare cosa significa ogni pezzo, perché sennò ci mettiamo veramente due ore. Quello che c'è da capire è tutto quello che trovate sotto image, o images... no, image è uno solo. Questo è il container che viene seguito. Se lo mettiamo in cima, è quello che viene seguito per tutti i job. Questi così, questi, questo qui, questo, li chiamano job, oppure, non mi ricordo se su Bitbucket li chiamano task. Adesso è convenzione loro. In generale sono tutte operazioni che vengono eseguite separatamente. Possiamo eventualmente decidere di mettere un'immagine diversa, se vogliamo. Se per caso, magari, visto, ne abbiamo una diversa in particolare. Per ogni operazione che facciamo, ci sono, questi sono i task che eseguo io. Calcolate che quando vengono eseguiti questi script, voi vi trovate nella root del progetto. Cioè, se il vostro repository è questo, quando sono qui, questo Composer validate lo eseguo a questo livello qua. Cioè, questo è un progetto Laravel, lo eseguo qui, perché legge questo Composer JSON. Quindi ogni operazione, se qui voi scrivete pvd, vi comparirà un percorso del GitLab Runners e in generale vi comparirà la copia del vostro repository. Quindi, oppure se fate catcomposer, catcomposer.json, magari questo adesso facciamo come test. Stessa cosa, lo metto anche qua, catcomposer.json. Così vediamo quello che succede quando lanciamo le pipeline. Quindi io che faccio? Questi nomi qui sono nomi, cioè, fatti, scelti da me a caso. Solitamente vengono accorpati, cioè, sto facendo i test, gli do un test, due punti e il tipo di test che faccio. Voglio fare deploy, deploy due punti. Su GitLab è molto semplice perché li posso scrivere così separatamente. Gli stage, quello che dicevo prima, sono di fatto, non sono tanto gli ambienti, sono gli accorpamenti delle operazioni che voglio fare. Perché io posso fare test, test pip, il famoso pip, oppure prova, cioè, li posso chiamare come voglio. Dopo vedrete l'utilità. L'utilità degli stage è che vengono eseguiti in parallelo. Cioè, queste tre cose vengono eseguite in contemporanea, in GitLab. In bitbucket questa cosa così non la potete fare, perlomeno ad oggi. Poi se lo faranno in futuro non lo so. Quindi io da sviluppatore dico, guarda, ok, voglio fare un cavolo di test del mass detector, cioè capire se ho messo qualche variabile, c'è qualche variabile inutilizzata. Lancio due comandi, posso lanciare, posso fare solo questo script e ho la mia pipeline. Nessun DevOps che devo chiamare, nessun sistema che devo configurare e ho già tutto pronto. Quello che vedete in più, queste cose qui per esempio, è un plus per eseguire più veloce la pipeline. Cioè, il sistema vi permette di dire, ok, create una vostra cache del composer, se no a ogni composerista la pipeline ci mette 300.000 minuti. Se mettete una cache ci mette di meno, quindi consumate meno minuti. Vabbè, se il GitLab Runners è il vostro, potete dire chi se ne frega, ma voi immaginate, avete fretta di fare un deploy, magari rispetto a un quarto d'ora con la cache ci mettete 5 minuti. Fa un po' di differenza. Ora, i task che vengono eseguiti sono comandi che vengono fatti in una shell. L'immagine che vedete qua sopra, che ho fatto io, è una Debian con dentro installato il PHP. Poi dopo, anche questa è già su GitHub pubblica, quindi la potete controllare. Passando invece a Bitbucket, dov'è la differenza? La differenza è che non posso creare questi task così, separati, se non con un piccolo giochino. Cioè, il giochino è, creo che si chiama step definition, quindi questo blocco qui immaginatelo come se fosse tutto questo messo insieme. Perché? Perché se io ne creo due di questi per fare i test separati come su GitLab, lui me li esegue in sequenza e quindi perdo tutta l'utilità. Quindi io creo questi, chiamiamoli funzioni, non lo so, a livello programmazione è più come se fossero delle funzioni che tu richiami, e sotto richiamo, vedi, test, questa roba qua, deploy production, questa parte qua. Stessa cosa anche qui, questi sono tutti i comandi che vengono eseguiti nella root del vostro progetto. Queste cose qui, tipo default branches, cosa sono? Io posso decidere dove, su quale branch deve essere eseguito questo task, tipo il deploy in production deve essere eseguito solo sul branch master. Stessa cosa qui, branch master esegue il test deploy production, tutti gli altri, default oppure di qua non ce lo scrivo, vengono eseguiti su qualsiasi altro branch. Partiamo prima con i test, cioè il discorso voglio seguire dei test oppure voglio fare dei task. Io l'ho modificato adesso questa di GitLab, faccio la mia commit, dico cut file, vabbè, commit a casaccio, e la mando su GitPush Origin Master, la mando su GitLab, qua. Vedete qui sta partendo la pipeline. Ora, su GitLab c'è tutto il discorso configurazione, posso dire. Questo, ecco, questo per esempio era il discorso sicurezza, si diceva prima. Attenzione che le pipeline possono essere pubbliche, quindi sì, qualcun altro ci può accedere. Perché viene fatto questo? Per i progetti quelli open source, che è molto comodo. Questa adesso non la metto pubblica perché sennò è un casino. Runners, questo è dove vengono eseguiti. Questo, vabbè, è uno mio vecchio che non riesco a togliere perché non lo gestisco più io. Queste sono quelle che ti dà GitLab. Qui, vabbè, c'è di fatto un runner, non è nient'altro che un docker container che esegue a sua volta un altro docker container, tipo inception. Cosa c'è in più di configurazione? Le variabili. Le variabili, quello che vi dicevo prima, questa variabile qui, SSH private key, è la chiave che mi servirà per fare il deploy nel server che vediamo tra poco. e qua la utilizzo in questo punto qui. Chi conosce un po' di bash saprà che quando io metto il dollaro davanti è richiamare una variabile che ho creato prima. Quindi questo task, o almeno specifico del deploy, lo vediamo con deploy. Adesso voglio farvi vedere quello che succede con i task, con i job, insomma, che ho appena fatto. Allora, questo test deploy sono gli stage, quindi, test deploy. Come vi dicevo prima, questo blocco qui, gli ho messo tutti lo stesso stage e di fatto lui me li esegue in parallelo. Questi non sono stati eseguiti uno dopo l'altro, ma in parallelo. Perché? Perché a me me ne basta che fallisce uno per stoppare tutto lo stage, non andare avanti. Questa cosa qui BitBugget non la fa. Lui li esegue in sequenza. Quindi questo può essere comodo sicuramente per capire dov'è l'errore così a colpo d'occhio. Ma se per esempio andate a vedere, per chi è sviluppatore Magento, l'N98 Major Run, loro hanno tutto un sistema di pipeline per testare le varie versioni e non utilizzare Travis Sea, perché anche loro hanno GitLab. Andando nel dettaglio, dove avevo messo cat, test coding standard. No, qua. Eccolo qua. Allora, tutta questa parte iniziale è il setup che fa il runners, cioè lui si scarica il repository e lo mette come cartella principale e poi inizia a fare i task. Vedete, questo è il cat composer json. Infatti lui mi fa vedere il mio composer json, che è quello che avevo aggiunto qui. Quello che è stato fatto non è nient'altro che fare composer validate, composer install e composer test static, perché io, se andiamo a vedere il mio composer, ho aggiunto un task che fa il test static, non è nient'altro che php code sniffer. Ora, che cos'è code sniffer, mess detector? Immaginate che, se non lo sapete, dico vabbè, sto eseguendo delle operazioni. Ripeto, per il momento l'importante è capire che ho un job, ho dei task da eseguire e lo assegna a uno stage. Lo stage di fatto serve per dare il parallelismo. GitLab li dà, li potete scegliere voi i nomi. Bitbucket li ha bloccati, cioè li sceglie lui. Facciamo la commit per Bitbucket. Io qui nel mio progetto ho aggiunto entrambi i repository. Solitamente voi dovreste scegliere uno dei due, cioè questo è un caso estremo e via eccezionale. Bitbucket master. Quindi andando su Bitbucket fra un po' partirà la pipeline qua. Eccolo. Questo qui, test deploy to production, sono i nomi che gli ho dato qua. Test deploy to production. La pipeline viene eseguita nel cloud di Bitbucket. Teoricamente voi avete una lista di IP dove vengono eseguiti queste pipeline in modo tale che se dovete metterle in una whitelist lo potete fare. perché se da qui vi dovete collegare a dei server, giustamente in base al tipo di progetto e alla sicurezza, vi servirà una whitelist degli IP. Ora, performance di Bitbucket pipeline secondo me va molto in base all'abbonamento. Se avete quello a pagamento sicuramente vi mettono in una lista prioritaria. non lo scrivono, non lo dicono, però ho visto che effettivamente chi ha l'abbonamento a pagamento gli va molto più veloce. e infatti qui ancora non capisco se è lo sharing oppure... ecco adesso non mi ha fatto bene la pipeline. Questo vediamo dopo il perché. Il problema di avere il mix è che di fatto io sto facendo lo stesso deploy della stessa commit due volte e giustamente lui mi diceva guarda, tu questa cosa già l'hai fatta, con l'altra, con questa vai in errore. Come sempre tutte le demo non funzionano mai, anche se l'ho testata dieci volte, però per il momento quello che vi volevo far vedere era il cat composer json, che era quello nel test. Questo qua. cat composer json. Poi dopo vedo che cavolo è successo col deploy. Però... Quindi per la prima parte, cioè utilizzare la pipeline lato sviluppatore, questo è l'utilizzo che uno ne può fare. Qui qua sopra potete benissimo scrivere, che ne so, Debian, stretch, oppure php7.2, qualsiasi immagine docker vogliate. Ovviamente quelle che sono qui, che scrivete qui, devono essere visibili nel docker hub. cioè qua, devono essere disponibili qua. A meno che non facciate dei magheggi con gitlab e utilizzate il loro, sono di qua, il loro sistema di container registri. cioè docker ha il suo sistema di immagini tipo packages.org. Funziona al stesso modo. Voi potete avere quello globale che vedono tutti oppure un vostro reposito di container. Gitlab ve lo fornisce in modo privato, cioè con l'accesso che avete solo voi. Bitbucket fa riferimento solo a Docker Hub. Non c'è altra alternativa per il momento. O che io sappia. Magheggi con registri di gitlab? Sì, perché che succede molto spesso con registri di gitlab? Tu di fatto ti puoi creare un'immagine docker dove dentro c'è già tutto configurato. Quindi non devi stare a fare magari ogni volta il discorso delle chiave SSH oppure configurazioni particolari perché parti da un'immagine vuota. Ma puoi partire da un'immagine specifica per quel progetto lì. Che ne so. Il progetto richiede a livello sistema operativo l'N98 mi girano pure. Dai, un qualsiasi script lo potete benissimo caricare nell'immagine docker. Ecco perché questa cosa qui per chi non sa come funziona un docker container può essere molto difficile da capire all'inizio. Di fatto è un docker container nient'altro che un'immagine di... se prendiamo per esempio quella che ho io dove sta? Qua. Si parte sempre da un'immagine prestabilita. Io adesso per esempio ancora non ho studiato bene come cavolo fanno a fare quella del sistema operativo pulito. però potete partire da un sistema operativo vuoto oppure da un'immagine già fatta e mettere i vostri... installare le cose che volete in più oppure anche copiarci dei file. Cioè di fatto voi potete aggiungere dei file a queste immagini come se fosse uno snapshot di una macchina virtuale oppure quando fate un backup del PC. Molto, molto... detto molto, molto semplice. Passando invece al discorso deployer se vedete bene in entrambi il deployer non è nient'altro che chiamare un comando cioè questo è il tipo il software che viene eseguito comando che bisogna fare deploy dove lo dovete mandare production e varie opzioni. Adesso lo vediamo nel dettaglio come cavolo funziona. funziona sta cosa di deployer. Allora come vi dicevo prima deployer può essere installato o a livello sistema operativo oppure come un pacchetto composer. Se l'andate a installare voi ve lo ritrovate qua deployer, deployer. Quindi di fatto voi avrete tutta la libreria con i vari namespace quindi si può essere integrato in un vostro pacchetto oppure in generale lo potete utilizzare secondo lo schema predefinito. Lo schema predefinito è lo richiamo come libreria quindi qui ho la vendor e lui dice guardate se volete fare la versione più semplice fate questo file deploy.php ci includete eventuali vostre librerie poi quello come si fanno magari lo scriverò non lo so è un po' più lunga e lui fa delle operazioni che si chiamano task e le potete scrivere in questo modo task descrizione vi faccio vedere come si crea si inizializza questo progetto magari di deployer allora deploy vendor bin dep questa che vedete qui è una symphony console come se siete in Laravel php artisan se siete in symphony dipendo poi dalla versione ma adesso non mi ricordo la parte symphony magento bin magento comunque si utilizza di base una una symphony console questo dep lo potete come dicevo prima installare anche a livello sistema operativo con un far par scritto punto par oppure lo eseguite dalla cartella e ok avete avete fatto il vostro composer l'avete incluso avete fatto il composerista le dice ok voglio iniziare il primo comando è l'init lui ti dà già un set predefinito solitamente ecco o per i framework o per alcuni chiamiamoli cms dai cake php ormai non lo so chi lo usa drupal sit type non lo so anche lì teoricamente ci sono anche per altri tipo c'è qualcuno che l'ha fatto per magento 1 magento 2 anch'io qualcosina ho scritto o se no uno decide vabbè voglio il generico il common mi dice ok qual è il repository questo qui che stiamo utilizzando conferma sì e lui mi crea questo file quello che ti dà già fatto sono questi set di comandi perché tu puoi fare questi task che vedete qui sono quelli bin dep che poi avrete qua questi sono questi questi comandi qui li trovate qua dentro perché sono della libreria eccolo qua task e poi prepare e queste sono tutte le operazioni che fa questo che vedete qui è un comando che ne segue altri quindi posso fare tipo una catena di comandi o una sequenza se ne volete fare uno singolo basterà fare task e qui scrivere le operazioni quello che per esempio avevo fatto io di qua utilizzavo una libreria già fatta tipo ecco questo git update code cioè non fa nient'altro che fare o il git pull origin master o il git checkout della commit e queste sono le operazioni che faccio io questi cd e run sono le versioni semplificate di change directory nel server oppure esegui questo comando nel server in modo molto molto più semplificato sono funzioni che ti da questo deployer php ecco perché quello che dicevo prima teoricamente voi potreste fare la stessa cosa benissimo da soli è solo un modo in più oppure un modo più semplice per fare determinate cose una volta che avete fatto la vostra libreria siete a posto cioè io personalmente per i progetti tipo Laravel o ma anche i Magento 1 magari che non hanno bisogno di una build fare una build come magari può essere per Magento 2 ma basta andare sul server ed eseguire quelle quattro operazioni il progetto è qui vedete qui è a questa commit qua cioè quando carico una nuova commit faccio una nuova commit il sistema deve fare nient'altro che git fetch e git check out check out della commit poi dopo se dovete fare che so svuotare le cache eccetera lo potete sempre fare ma in ogni caso è fuori deployer svuotare una cache o in generale è un task che decidete voi tipo cache config questo è di Laravel vabbè comunque lo metto su dove sta composer install per esempio non è semplicissimo e faccio anche un po' fatica perché non avendo la risposta delle persone è un po' un problema però quello che c'è da capire ora andare anche nel dettaglio di qual è la sintassi che utilizza deployer è lungo e se no ci stiamo qui fino a mezzanotte quello che c'è da capire è lo potete inglobare col composer ha un set predefinito di operazioni da fare queste operazioni uno dice va bene queste sono le operazioni ma come faccio a agganciare questo che gira in una pipeline al server questa è la domanda classica allora prendiamo quello che ho fatto io riprendiamo questo come vedete qua c'è un comando che si chiama inventory e un file yaml host qua voi scrivete la configurazione del server cioè l'ip l'utente che utilizzate per collegarvi porta dove si trova il progetto la chiave ssh cosa importante soprattutto nelle pipeline voi non potete interagire nella pipeline cioè non è che vi viene fuori la l'interfaccia mettimi la password no perché è un sistema automatizzato quindi l'unico modo per collegarsi a un server in modo automatico è tramite lo scambio di chiavi pubbliche e private quindi l'unica soluzione è dargli una chiave privata come mettere la chiave privata in questa parte qui lo facciamo nelle pipeline in bitbucket lo fa in automatico da pannello ve lo fa qua impostazioni ssh questa roba questa ve la genera voi questa è la chiave pubblica questa chiave pubblica la copiate nel server ecco che avete l'accesso questa è questa qui lui questa è la pubblica la chiave privata ve la mette direttamente nella pipeline quando viene eseguita gitlab non ve la fa questa cosa quindi questa operazione quindi vado qua vado nelle variabili metto la chiave privata io per esempio per una sicurezza in più l'ho cifrata in base s64 per evitare gli sniffer però non è che c'è una password davanti e poi vado in gitlab qua e faccio un ssh add questa cosa qui questa operazione di aggiungere la chiave ssh nello step del pipeline è ben documentata in gitlab quindi non ce l'avete in automatico pronta come bitbucket ma una volta che avete questo è pronto per tutti quanti è un cova e incolla ogni volta dovete solo crearvi la chiave ssh poi anche qui non so come si crea la chiave ssh vabbè ci sono un miliardo di guide e non è nemmeno così difficile dai e torniamo a noi allora la parte di deployer php stavamo dicendo qua l'host varie opzioni tutta questa roba qui sono opzioni direttamente di rsync o collegamenti ssh per evitare tipo sia questa roba qui o strict checking per controllare l'host mi sembra di fatto è perché voi state seguendo delle operazioni dentro un docker container il docker container magari ha dei limiti tipo l'output video la console proprio la shell che vedete qua sono dei parametri anche qui standard ora non so effettivamente nel dettaglio tutto perché di fatto è ok io non sono sistemista quindi qualcuno adesso mi mi fucile aspetta scusa non avevo visto la domanda senza password allora leggo le domande la password della chiave ssh no cioè sinceramente non saprei come fare con la password nella chiave ssh cioè se voi avete la chiave ssh con la password no questa cosa non la potete fare questo è un limite certo poi anche qui ripeto dipende dal sistema ora se il progetto è veramente grande è molto complesso la pipeline con deployer no non va bene cioè sono il primo a dire guardate a voi come sviluppatore chi è sviluppatore serve per i test sostanzialmente il deploy è quella cosa in più chi ha budget magari solitamente è su amazon usa amazon con deploy cioè non utilizza le pipeline perché c'è tutto il sistema integrato di amazon oppure lo fa in un altro modo perché perché c'è il budget ma chi solitamente sta molto risicato oppure non puoi avere tutto quel sistema complesso perché devi avere un partner sistemistico bravo allora fa in questo modo cioè bisogna vedere un po' i compromessi non è che dico no questo è perfetto è comodo per fare i test o per eseguire cose senza avere la parte sistemistica certo se questo lo si vuole paragonare a Jenkins ti direi di no perché di fatto fa le stesse cose e c'è le stesse problematiche tornando a noi il discorso non so se ci sono altre domande se no ok quindi dicevamo quando con deployer io gli includo questo host sto dicendo che questo lo stage è anche qui posso dire che la macchina è in production test oppure non lo so solitamente gli stage sono due o è test o è di produzione potrei averne anche più di uno di test magari uno è test uno staging uno production o più nodi quindi potete fare web perché la comodità di questo è che vi esegue la stessa operazione in più nodi se questo magari era il 169 lui ve li esegue su tutti e due quando lanciate il comando la sintassi del comando che vediamo anche qui anche qui c'è questa cosa il comando io lo posso lanciare benissimo anche da qua se io ho l'accesso al server eccolo qua la parte stava anche lì da qui riesco ad accedere no così no adesso sono il dover container non ce l'ho l'accesso aspettate ok adesso riesco ad accedere perché mi sono importato la mia chiave la mia chiave ssh deploy vendor bin dep se io per esempio voglio lanciare il comando dove l'ho messo composer install nodev io vado a qui e scrivo composer install nodev vediamo che mi dice così vi faccio vedere tutti i passaggi devi specificare almeno un host o uno stage ok seguila in production production e lui inizia a seguire i comandi che mi dice mi dice che non ho la chiave ssh perché? perché l'utente che io utilizzo è debian non è root se io vado nel server e gli dico guarda prendi questa chiave mettimela qua adesso anche dal mio pc ho l'accesso debian e segui e lui inizia a seguire vedete questo web qua è questo qua se avessi avuto web01 lo seguire anche su web01 cosa ha fatto con questo comando qui? ho eseguito se lo vado a riprendere ha fatto un cd composer deploy path quindi questo qua quindi è andato cd qua dentro e ha fatto composer install nodev-o quindi ha fatto questa operazione qua se va a scatti ditemelo però non so quanto può essere veloce o lento common questa qua composer install nodev quindi io ho lanciato questo comando che sta qui in production quindi me lo dava su tutti gli host se volevo fare sul singolo host host web e quindi lui me lo seguiva solo web puoi seguirlo magari solo per ruoli perché? perché io posso mettere web posso mettere anche la macchina db se voglio e quindi db adesso magari scrivo sbagliato roles db no scusa web ma che cavolo ho scritto web front il ruolo web front ok ci sono varie possibilità ovviamente ripeto la comodità di questa è che se io ho il multinodo lui me lo segue da solo senza troppe righe di comando cioè oppure lui l'ha già creato io non lo metto a riscrivere scusa Alessandro Cappellozza che vuol dire utente Debian se vuoi poi non so se vuoi essere registrato o no allora forse è il discorso qui user Debian qua vabbè è una mia macchina allora che succede nel server io ho l'utente root che è quello che viene creato di default in più io essendo questa una Debian 9 lui ti genera in automatico quest'utente però poteva essere benissimo l'utente è un utente generico che segue il web server cioè potrebbe essere anche l'utente non lo so Laravel eccetera allora dice ok non sono non riuscivo ad entrare perché perché la mia chiave pubblica dal mio pc quindi questa qua era presente solo nell'utente root e non nell'utente Debian quindi ho aggiunto la mia chiave SSH anche nell'utente Debian in questo modo sono riuscito ad accedere ora ora non so non so se è questa la domanda nello specifico ah ok quindi quello che avete visto qua di fatto io lo riporto nella pipeline qua le pipeline hanno soprattutto gitlab delle variabili predefinite questo è l'hashing della commit in questo modo io gli dico ok quando sono nel server fai git checkout della commit che mi passa ora sì in mezz'ora non è così facile dare moda ancora più più difficile quello che voglio far capire è ripeto le pipeline comode per i test ma hanno un limite nei deploy con deployer ovviamente se il progetto è iper complesso i dati sono molto sensibili tutto non si può fare secondo me tutto no però se c'è chi mi paragona le pipeline a Jenkins direi di no cioè Jenkins non è che ha quelle cose in più di sicurezza rispetto alla pipeline quello secondo me no però è molto più comodo la pipeline di un Jenkins perché non c'è bisogno di tutta un'infrastruttura separata se volete un sistema più sicuro e a livello enterprise va fatto proprio una cosa ad hoc potete anche utilizzare magari le pipeline però deployer non è nient'altro che ok lancio un comando da una shell via SSH se c'è un problema di sicurezza con l'SSH no non si può fare quindi solitamente la soluzione magari qual è mettere il tutto in un server pre-prod chiuso che segue tutto quanto con produzione mi è capitato di avere ok io produzione ci accedo solo con la VPN quindi io il codice lo metto in un pre-prod con la pipeline perché è senza dati sensibili qua lo fa in SSH ma è tutto chiuso quelli però parliamo cioè di progetti veramente con budget abbastanza alti e anche sistemi complessi magari c'è quello che avevo io aveva 15 front-end di di noti non lo so se avete qualche domanda nello specifico e se sono andato troppo di fretta se non ci avete capito niente sicuramente quando siamo lì al pug o ci diciamo le paraculate come si dice da me tipo oggi non c'è Giacomo cavolo che fa il devops ogni tanto lo volevo prendere in giro c'era un altro Michele a parte lo guappone c'era un altro Michele che cavolo mi spiace oggi non è passato ti volevo far vedere questo magari lo vede col video dai qui le cose sono due o l'ho spiegato da schifo e ci può stare o se no non lo so vabbè non so ditemi magari qualcosa che volete vedere in più andiamo a fare un'altra comment vogliamo vedere perché questo non funziona che cavolo gli è preso direi che chi vuole può togliere il mutuo e proviamo ad avviare una conversazione ordinata a voce questa sicuramente perché c'è due pipeline incrociate è un casino infatti quando fa git check out di una commit che non esiste è un problema in effetti perché ovviamente qua non ho messo i due remote cioè qui c'è git remote meno v c'è solo quello di git lab se io la commit l'ho passata solo a bit bucket quell'altra commit non va aspetta vorrei facci vedere se io faccio rerun entire pipeline caso particolare questo problema perché due pipeline due repository per un progetto è la morte non si dovrebbe fare a meno che il secondo repository non è un mirror cioè è pura copia Nicola si vergognano dai se posso io una domanda ce l'avrei sì 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 allora ma non so se quanto c'entri però scusate va bene lo stesso mi è sorta mentre iniziavi a parlare nelle pipeline adesso io non sono ammetto di non essere ferratissimo su questa parte però quando nelle pipeline metterai immagino parlavi del mess detector code style o php stand per esempio stand adesso mi ricordo la pronuncia sempre per tornare al discorso di prima qui so che per esempio il mess detector ha tutta la sua serie di regole che uno può attivare e disattivare come si integrano all'interno della pipeline questi step e che cosa metti tu di solito allora vabbè nella pipeline il comando è molto semplice cioè nel senso ammettiamo dobbiamo fare il code sniffer sì code sniffer la libreria è dove sta questo è mass detection ecco qua code sniffer qui vabbè mi sono sbagliato dovrebbe essere un required dev ok faccio composer require tutto quanto il code sniffer come funziona io gli do un file di configurazione phpcs solitamente per i vari framework o cms quelli un po' più evoluti c'è già una serie di regole o se no questo magari è quello che mi sono fatto io per l'Aravel prendo tutte le regole base del coding standard che magari trovo del php e creo questo file xml dove di fatto io inserisco le regole e gli dico ok queste sono le regole leggimele nella cartella app questa qua ok normalmente nel pc io farei vendor bin phpcs lui di fatto legge in automatico questo file qui e mi esegue il coding standard e dice vabbè è a posto se lo volete integrare in composer cioè metterlo come comando composer dove sta composer adesso decidiamo tutto si aggiunge una sezione script e eccolo qua test static quindi chiamare vendor bin phpcs o chiamare composer test static è la stessa cosa ok nella pipeline io non faccio altro che questo comando lo metto nello step che voglio io quindi coding standard vedi qui faccio composer il composer test static max e qui metto vendor bin phpcs e faccio la commit fa la stessa cosa ora i test statici non hanno bisogno del setup completo del cms o del framework quindi ti basta solo il composer install perché perché quando tu esegui la pipeline lui ti fa un git clone del repository quindi la cartella vendor non ce l'hai quindi ti tocca fare per forza il composer install poi esegui il comando vogliamo vedere quello che succede change phpcs aspetta che qui c'avevo anche questa in corso cavolo se no mi si rispaccano le pipeline ok questa è finita pit push rigid master ok vedete qui le sta eseguendo in parallelo quindi il coding standard sembra una cavolata ma solo questi tre coding standard ora vabbè gli unit magari certi progetti magari non si possono mettere perché sono vecchi ma già mettere il coding standard il mess detector aiuta un po' coding standard permette di avere perlomeno una regola comune per la formattazione che sembra una banalità però cavolo cioè se uno decide che gli array li devi mettere in un modo oppure se col php7 array è con le quadre non array cavolo se lo scrivi pam ti dà l'errore cavolate che però che ne so se qualcuno junior fa un copia e incolla col tempo vedrai che evita e sicuramente non lo pubblicate composer validate composer install vendor php vendor bin phpcs e questo è come integro per esempio il phpcs code sniffer il mess detector è la stessa cosa il mess detector la librerie php md si configura con rule set xml e queste sono questo è un file generico cioè si trova proprio nel repository del php md complessità alta ora vabbè che cos'è la complessità ciclomatica è quando per chi non lo sa è quando per esempio avete una funzione di 10.000 righe diceva cavolo forse avete scritto un po' una cazzata insomma non va bene sono quelle piccole cose ma già solo too many fields delle classi con troppi attributi ora adesso qui non ce l'ho un esempio pratico del mess detector però possiamo provare qua cioè se io metto test vendor bin php md ah vabbè il comando effettivo è così app è la cartella text mi sembra è l'output rule set rule set è il file bene non me lo leggo quello come sempre che cavolo ho scritto ah tests niente ci ho messo l'igno bene con le demo mi funzionano sempre tutte molto bene oppure non l'ho messo nel too many field no mi sa che non l'ho messo ah no new set code eccolo qua forse il console kernel non viene letto comunque ecco c'è un parametro in più che non viene usato ripeto cioè ora tralasciando il discorso deploy che magari serve a chi già sa un po' di minimo di sistemistica cioè sa come collegarsi in ssh perché tanto ormai se sviluppiamo in php i server sono tutti linux dubito che c'è qualcuno che c'è il php col server windows in produzione per esempio per esempio però perlomeno già solo avere un minimo di standard con il team a dire va bene test unit vabbè siamo piccolini tutte le problematiche del caso che ho sentito per non iniziare a fare i test però perlomeno quegli statici di controllo formale e dico praticamente questi due il coding standard e il mess detector non sono né così impossibili né così impattanti come tempi cioè una volta che l'hai messo ok fa tutto il check sembra banale ma già il sistema di controllo della questo qua della complessità ciclomatica impatta perché quando vedi che tutti scrivono su un'unica funzione eccetera dici cavolo cioè dai almeno ti blocca il deploy e dici cavolo non va avanti cioè oppure ti dà un avviso se siete in team lo manda a chi deve fare la revisione non so se era questo Alessandro che che mi chiedevi sì allora mi hai rispirato molto di più di quello che avevo chiesto io e ti ringrazio non è stato tutto chiaro per quello ti spiego la mia domanda originaria la mia domanda originaria è legata alle G-Tab Action le G-Tab Action hanno delle azioni specifiche per PHP-CS e l'MD per esempio mi domandavo se c'era la possibilità di utilizzarle come fossero delle azioni atomiche e dirgli anche quali regole utilizzare per esempio se io ho delle regole mie in un repository o cose di questo genere perché io nella mia enorme fantasia pensavo che cioè immaginavo che su progetti più grossi potesse essere utile avere un codi standard centralizzato invece che fosse all'interno del progetto fosse fuori e che il controllo statico avvenisse nel momento della run della pipeline non so se sono stato sufficientemente incasinato no nel senso non ho capito perché la ruleset per esempio la UI esterna ora G-Tab Action non lo conosco sinceramente nel dettaglio però mi sembra strano cioè non ti fa fare una cosa di questo tipo cioè Ben Orbeen P-HPC Action non lo puoi scrivere? no no penso di sì no les ho guardate molto molto di fretta non le ho approfondite dizerci la verità vorrei iniziare a usarle perché le hanno messe come dicevi tu gratuite per un certo minutaggio e quindi avendo tutto lì mi interessava cominciare a dargli un'occhiata e poterle integrare visto che le, diciamo, chiamiamole pipeline, però io ho una serie di script miei che fanno queste cose in maniera come dicevi te, un bash poi ho un ciclo di deploy un pochino più complicato perché passo attraverso i on-cube loader perché poi io non scarico su un sito ma scarico su un appliance hardware quindi ho un ciclo un po' particolare e soprattutto locale, però vedendole così isolate mi davano l'idea che potessero essere configurate a parte e non all'interno del progetto non so se il problema è come le lanci queste cose, cioè il discorso è la pipeline parte perché tu hai i repository su GitLab o su Bitbucket se no l'alternativa è in ogni caso i file sono qui e tu fai un mirroring dei progetti, cioè ho visto casi in cui io c'ho Bitbucket ok, no la pipeline su Bitbucket io non la voglio perché si impunta il CTO di turno e dico va bene tanto piacere io ti faccio la commit e me lo sparo su un GitLab mio per fare i test e quindi fa in quel modo ma in generale cioè il file è qui le operazioni cioè i file del composer oppure le dipendenze sono qui metterle esterne non le fai secondo me con le pipeline perché sono troppo legate al repository quindi è ok posso mettere un webbook ma tutte le operazioni che fai sono script tuoi a parte e non so se le puoi mettere qui dentro quindi non lo so sinceramente è un caso particolare dove uno dice voglio mettere il coding standard però non lo voglio agganciare al mio repository non mi è mai capitato sinceramente quindi solitamente ok c'ho il progetto c'ho il coding standard di questo progetto che poi di fatto il file se tu dici questo file lo voglio mettere come libreria lo puoi sempre fare cioè magari questo lo carichi da un'altra parte ogni volta che fai test lo scarichi con un vughetto insomma non lo so guarda è un caso veramente particolare Alessandro sta cosa no può darsi che sia anche la mia maniera sbagliata di interpretarlo non ti preoccupare no nel senso non ho capito allora le GitHub Action ripeto non le ho viste non so come funziona nel dettaglio secondo me non è che varia avevo visto che c'era lo stesso file YAML di configurazione magari sicuramente cambia qualcosina rispetto Bitbucket o GitLab però se devo fare il coding standard dai cioè se è un progetto PHP ok ho il composer la metto come dipendenza dev e mi metto il codistanza ripeto questo file non lo vuoi agganciare al repository lo puoi prendere in mille modi cioè in modi più fantasiosi però anche lì non è detto che magari certe cose vanno bene per questo progetto altre in un altro insomma varia anche con il discorso versione PHP PHP per esempio adesso con il discorso 7.1 7.2 così fino al 7.4 cambiano un po' di cose quindi anche il coding standard cambia perché magari te l'invalida sul 7.4 ti dice no così non vanno bene in realtà è il coding standard che non si è aggiornato al 7.4 certo grazie sai prego figurati non so se ci sono altre domande oppure ho una domanda ciao Peppe Lorenzo ciao ciao intanto complimenti grazie chiarissimo anche se era la prima e ti ringrazio per la condivisione ti volevo chiedere all'inizio parlavi di deployer come un sistema che lavora sulle cartelle sì il sistema con le release quello che nasce di default sì esatto poi ho visto invece in realtà fai delle git push queste git push prendono tutti i file e li mettono in una cartella poi ci sarà un momento in cui viene fatto lo switch no no allora sono due tecniche diverse il discorso è utilizzare il sistema di release con le cartelle di fatto avendo tutto il reposito di git nel server ha poco senso cioè se io ho la cartella qua e ci faccio la cartella releases e al suo interno ci creo tutte le release cioè quello che mi fa deployer ha poco senso se io ho il git perché mi basta un git checkout per fare lo switch di release quella tecnica viene utilizzata se tu hai tutto il codice e non ci metti il repository quindi ogni volta io ricopio tutto il codice lì dentro non so se questa è chiara cioè il sistema delle cartelle release è comodo se tu nel server diciamo di produzione non hai il repository git cioè se io vado qui e scrivo git status non ho niente perché non ci voglio mettere il repository quindi questo contenuto io ogni volta glielo do in pasto per intero glielo passo con uno zip nella nostra situazione solito non abbiamo git cioè repository sulla produzione ok poi qui c'è tutto il discorso filosofia non metterci git o ce lo metto git questa è la discrezione è religione sì è religione cioè il discorso è io per esempio preferisco mettercelo perché perché se qualcuno mi buga il cms me ne accorgo e riesco a capire quale file in più se non c'è e ti hanno messo un file in una sottocartella certo te lo mettono nella cartella media dove sono le immagini sei fregato lo stesso però è anche vero che lì hai un htaccess che magari non esegue il php o script eccetera nella maggior parte dei casi se ti mettono qualcosa fai un git status te ne accorgi che ci sono dei file in più quindi io preferisco per esempio mettercelo sempre poi c'è il discorso ok no non ce lo mettiamo allora sì si fa il discorso delle release che ti fa deployer però ora la demo con le release possiamo provarla il problema è che dove sta guarda tanto non lo faccio partire dalla pipeline lo faccio dal mio pc bk allora lo metto allora facciamo proprio un int di progetto magari tipo demo al volo per vedere quello che succede ender build dep int 0 yes mi servono solo questi questa lista di comandi è per creare il deploy quella con la cartella release allora me lo copio e poi lo riuso il mio forse devo mettere così se no non si leggi ok lanciamoli singolarmente così magari vedete anche quello che succede meno questo è production questo è production ah non mi riprende singolarmente cavolo cavolo ok giustamente qui non c'è niente ti dice aggiorna il codice ma che non c'è in generale cosa fanno questi comandi prepare è blocca vedete c'è una cartella punto dep blocca il sistema per dire ok sto facendo un deploy se per caso qualcun altro le lancia da un'altra parte se no non lo puoi fare release teoricamente crea la cartella releases e qui gli da un numerino ora ovviamente qua sopra non c'è una mazza non mi crea niente prepare l'ha fatto comunque i comandi sono tutti qua se ci fai caso dep release shared make dir ok questo l'ho tolto se è bloccato con il lock vediamo un po' che succede se cancello tutto ok Grazie a tutti. No, si ferma al lock. Aspetta. Facciamo al lock, però sembra strana sta storia. Senti, sai che ti dico adesso? Questa glielo leviamo. Io ti dico, senza sistema di git sopra, allora fai meglio a utilizzare un sistema, cioè servizi esterni. Perché il problema è se ti mancano gli storici oppure cancelli un file, eccetera, è un bel rischio. Anche lì sono scelte, sono filosofie. Io, ripeto, ce lo lascio sempre. Ora adesso, anche qui, crearla, qui c'è arrivata la release. Il problema è che non c'è il codice, quindi non lo so teoricamente dove era il pezzo. Forse questo mi faceva prendere tutto il codice e dà un path. Io non l'ho mai utilizzata così perché questa parte qui viene cambiata con uno custom dove gli dico, ok, prendi uno zip e scompattamelo. Quello è per esempio per il Magento 2. a quel punto lo zip lo farebbe la pipeline. Sì, è tutto, è uno step prima che fa lo zip. Chiaro, così mi torna, così mi torna. Però anche lì, se è un progetto dove di fatto non devi fare una build di qualcosa, ma ti basta solo cambiare la commit, allora faccio git checkout che è molto più sicuro rispetto a fare la release. Ok, qui perché? Perché le release occupano anche un sacco di spazio. Certo. Se fai il sistema di release devi mettere i link simbolici che fa con questa qui, con la shared, che ne so, dei file di configurazione, eccetera. Git checkout invece non sta tutto lì. Il sistema che lo uso io solitamente è per Magento 2. In Magento 1, per esempio, li lascio con, come Laravel, faccio git checkout. Perché tutto che succede, quando fai il sistema release tu devi mettere, che ne so, i file di accesso al database, ora per Laravel c'è il .env, ma anche, insomma, quelli per Symfony. Questo non deve essere nel repository, quindi è considerato un file shared. oppure se sei nell'ottica di multinodo, i file fuori repository sono in una cartella condivisa. Questa poi sarà in NFS. Quindi, insomma, ripeto, sono scelte. Poi anche qui, magari in una demo specifica, oppure, non lo so, per come lo vuoi tu, la posso fare a parte. No, 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 era perché, ma sicuramente più conveniente a questo punto, con questo strumento. Sì, cioè, io lo consiglio. Poi dopo, ripeto, Lorenzo, dai. Sì, sì. Quelle sono le filosofie, anche qui. Comodo fino a certi livelli. Quando sei in un livello enterprise che devi garantire anche certi livelli di sicurezza, attenzione, cioè, questo non fa nient'altro che fare un SSH, eh. Cioè, SSH esegua dei comandi. Quindi, la progettazione poi dopo, sì, spetta effettivamente magari al sistemista. Però anche lì, se io in produzione ce l'ho in un futuro col Kubernetes, Kubernetes, la fai con questa, non la fai col sistemista. Perché quello è tutto già virtualizzato, non c'è l'accesso in altri modi. Molti si stanno spostando in quella situazione lì. Però, vabbè, quello è poi tutto un altro discorso. C'è una domanda di Alessandro. Di task in parallelo. Allora. No, allora, se fallisce una di queste tre, le altre continuano, però non vai avanti. Cioè, in verticale vengono eseguite tutte, anche se una fallisce. In orizzontale, no. Cioè, se una delle tre fallisce, non vai avanti. Ok, chiarissimo. E il test coverage, se chiaramente se uno fa code coverage, esisterà all'interno della propria pipeline. Dove lo inseriresti? Il test coverage lo inserirei solo in un determinato branch, non su tutti. Ok, non ho chiaro. Chiaramente, ad esempio, sul master non lo metterei perché è una cosa che ha poco senso di essere. Durante lo sviluppo attivo, se ci lavorano anche più persone, invece, ad esempio, a me piace averlo come dato. Solitamente mi metto proprio il tag del mio Arritmi per vedere se si sta lavorando bene dal punto di vista del testing. Ah, le metterei qua. Si potrebbe mettere. Cioè, le metterei sempre nei vari test perché effettivamente è un test a tutti gli effetti. Poi anche lì, cioè, ovviamente... Eventualmente potrei metterlo in parallelo con il deploy, sullo staging intendo, chiaramente non sulla production. Allora, secondo me è... Tu lo metti in parallelo dove hai bisogno che si blocchi. Cioè, del tipo, se fallisce, che devi fare? Il deploy continua? Oppure, diciamo, vabbè, sti cavoli anche se fallisce. Perché se no uno fa lo stage apposta. Non so, considera che a quel punto farei girare i test due volte. Nel senso, prima farei un giro secco senza X-debug o quello che utilizzo per riuscire ad arrivare al deploy sullo staging. Però io comunque come artefatto chiamiamolo, anche se non lo è di fatto, vorrei comunque avere l'informazione sul coverage. Quindi deve essere una cosa che gira sotto ma che non mi dà fastidio di base. Allora lo metti come stage a parte. Che in modo tale che se fallisce non ti blocca niente. Mi faresti un esempio. Come si fa questa cosa di uno stage a parte? Questo solo con GitLab. Bitbucket secondo me non lo fai. Deploy. Code. Lo metti per ultimo, magari. La sequenza sì, qui è importante. Il discorso è, oppure lo metti che ne so, deploy production. Tu puoi mettere tipo, on success mi sembra. No, mi sa che non c'è. Cioè, o lo mettiamo come cosa parte. Stage. Copy. Match. Cioè, lo metti come step ultimo. Il discorso è che gli stage, questa la sequenza è importante. Perché ti dà la sequenza delle pipeline così. Quindi se è un task che di fatto deve essere isolato e non è a fini del deploy, lo lasci alla fine. Oppure lo lasci come step manuale, in modo tale che non te lo intoppa. C'è anche la possibilità di dire, che ne so, continua anche se fallisce. Quindi tu lo metti qui, tu cerchi gitlab ci on failure. C'è la reference. C'è un sacco di opzioni su sta roba. On fail. No. Quindi when manual che quando lo esegui manuale. Questo no, quando è on failure. Vedi, allo failure true. Vuol dire che anche se fallisce va avanti. Quindi tu lo puoi mettere nei vari test, però non ti blocca il deploy. Chiarissimo, non sapevo dell'esistenza di questo parametro. Grazie mille. Cioè, ce ne sono una miriade. Quindi ogni tanto uno lo deve andare a guardare. Poi questi gitlab fanno molte release all'anno. Quindi magari adesso una in un modo, arrivi dopo X mesi che hanno introdotto un tag e fai subito. Tipo questa cosa del failure l'avevano introdotto da Pop. C'è anche scritto, mi sembra, la versione. Perché qui mettono le versioni perché se uno se la compra on-premise ovviamente certe versioni non sono supportate dai runners. Però ripeto, qui uno si sbizzarrisce un po' come vuole. Perché solitamente io ai deploy c'è sempre che l'on-failure fai qualcos'altro. Cioè, se per caso vi va in errore la parte deploy, teoricamente devi lanciare un qualcosa che ti ripristina l'ambiente. cioè, non lo so, per qualche motivo faccio git checkout e vai in errore. Devo avere un altro comando che mi fa tipo il reverto oppure mi rimetto una commit precedente. Bitbucket non la fa questa cosa. o perlomeno non l'ho visto, è molto complessa da fare, secondo me. GitLab ti dice, ok, on-failure fammi quest'altro task e quindi fai un reverto della commit. La cosa importante, anzi, da deployer su queste cose qui è che se ci sono modifiche al database, quelle non tornano indietro. Cioè, questo è importante, ragazzi. Cioè, qualsiasi sistema implementerete, a meno che non siete tipo in Amazon AWS o Google Cloud che hanno il database che torna indietro nel tempo che volete voi. Cioè, se avete fatto una modifica database potete tornare indietro col codice. Ma col database siete fregati. Capito? Quindi, o perlomeno, insomma, dai, attenzione quando fate quelle commit di quel tipo. Io, comunque, ecco, l'obiettivo per me principale è inserire un sistema di testing o codice uniforme. Il deployer, per esempio, l'utilizzo che ne faccio io è anche per il provisioning delle macchine Docker. Cioè, nel mio ambiente locale, quando voglio fare, voglio scaricarmi il database di produzione, magari sanificato, sanitificato, come cavolo si dice, senza i dati sensibili, sennò il GDPR, insomma, v-. faccio un comando ad hoc col deployer. Uno dice, sì, vabbè, lo posso fare con lo script bash. Certo. Deployer è più comodo perché lo faccio prima in PHP, non voglio rompermi le scatole con il bash. Poi, anche lì, diventa più una scelta aziendale che filosofica, dai. C'è chi dice, no, vabbè, io ho studiato il Ruby, vai, 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 con Capistrano, va benissimo lo stesso. Di fatto, chi vede deployer e ha visto Capistrano, dice, cacchio, sono uguali, fanno le stesse cose. La cosa comoda è che se tu vuoi farti delle librerie in bash, come te le richiami col, che ne so, col composer o con un sistema di repository, cioè, fai più fatica. Col deployer te le richiami come se fosse un package composer classico. Quindi molto più semplice per lo sviluppatore. Non lo so, poi adesso, se ci sono altre domande o curiosità, solitamente per chi, insomma, è la prima volta che partecipa, o si cambia argomento, perché magari escono fuori mille cose nuove, o se no, che ne so, se li fanno demo diverse. Poi anche qui non ho ne idea quello che vogliamo fare. Se sono fatte le 10.40. Non so se avete altre domande o curiosità particolari. Anche domande per il gruppo, eh. Cioè, chi non ha mai partecipato al gruppo, perché ovviamente è anche distante. L'online ci rende tutti molto timidi, vedo. Non so, tu ti dici, facciamo un'altra demo, oppure altri esempi, non ne ho ne idea. Spero di averlo spiegato bene. Però, vai. Serve a migliorarmi, fare questi speech nel Pug. Questo è uno dei motivi per cui il Pug esiste, quindi nuovi speaker, sempre benvenuti. È anche la primissima esperienza. Non so se tu hai già qualche altra demo pronta. Aspetta, io non sento, eh. Qualcuno sente, Nicole? Ah, ok. Allora il mio. Scusa, dicevi? Dicevo, non so se tu hai già una demo pronta. Oppure se qualcuno vuole avanzare una proposta. Eh, la demo, cioè nel senso demo... Non ci possiamo fermare, non abbiamo un orario, non siamo vincolati per legge, non voglio tenere nessuno incollato alla sedia. Demo diverse? No, perché c'è il problema, dai, non posso mettere quella dei clienti, il discorso privacy. Quindi è in ogni caso tutto quello che vedete oggi è nel mio profilo Github. Se volete approfondire, approfondire, che ne so, la parte invece Docker, per chi è curioso la parte Docker, c'è quella roba lì. E... Allora, qui per esempio, Deployer Magento 2 sono... Non so nemmeno i comandi, sono le cartelle che sono specifiche di Magento 2. C'è un altro che ha scritto molto meglio, per esempio la WebGryph per Magento 2. O se no, ce ne sono un sacco in giro. Se vi cercate Deployer, recette, niente, scritto male. Ah no, ho il Github. Se no, niente ragazzi, nel senso, v'ho annoiato abbastanza oggi così. Certo, dal vivo certe cose è un po' diverso, però dai, da remoto magari nelle prossime magari vediamo, insomma, quando si spera uno ritorna dal vivo, cerchiamo di farle anche in stream per chi è più lontano. Ciao Manuel, ti volevo ringraziare per il talk, sei andato bene, secondo me, è stato chiaro. Grazie Manuel. E volevo farti una domanda, sulla parte delle pipeline, se si possono utilizzare più immagini Docker e farle parlare insieme, per esempio, o il classico database più web server più PHP, FPM. Allora, io non so se se ne può fare più di due. Due sì, cioè nel senso, in un task qui puoi mettere un servizio in più, che adesso non mi ricordo la sintassi, e puoi mettere un'immagine aggiuntiva. Ok? Più di due, sinceramente, non lo so. Però sì, solitamente due sì, che è per fare i test integrazione o qualsiasi altra cosa. Perfetto. L'alternativa solitamente è o mi faccio l'immagine mia custom, dove ci butto tutto dentro, che è quella più comoda, o se no, i due separati sono database e codice. Quindi sì, cioè in quel modo sì. Perché per la parte, non mi ricordo, poi magari faccio anche il, c'ho un post sul blog che era proprio per le pipeline di Magento 2, perché lì mi serve il database per fare la deploy. Ecco qua, Docker Magento 2. No. No, questa è l'immagine. la cacchia l'ho messo. Deployer Magento 2. Deployer, forse questo, pipeline. GitLab. Eccolo qua, services. Non lo so sinceramente qua se ce ne puoi mettere più di uno, eh. Ok. Quindi teoricamente credo di sì, il problema sono i runners, cioè la macchina dove ti gira sopra sta roba, tu ci metti 10.000 container dopo un po' esplode. Ah, classico. No, no, ma già un paio, sì, due o tre, due massimo tre normalmente. Eh, ma poi anche qui secondo me dopo cala di performance, quindi la soluzione che fanno tutti è una esterna, sicuro, il resto la mettono tutta sopra, la inglobano sopra. Ok. Oppure nella prima immagine mettono tutto lì. Ma per un discorso di performance non di più. Ok, grazie. Prego. Guarda, mi permette di intervenire un attimo sul discorso del code coverage perché stavo guardando la documentazione e ho visto che c'è anche la possibilità di schedularle e a questo punto avrebbe probabilmente molto più senso di farlo durante il commit o il question sulla sua repository. Sì, tutto sta in base al progetto. Certo, il code coverage è più se fai un progetto di prodotto, non tanto di tipo sito online, quindi, che ne so, e-commerce o sito statico, cioè sito vetrina. è già un miracolo che vedo i progetti con i test, poi ci mettiamo il code coverage, è proprio il sogno che si avvera, ma casi rari, cioè, vedendo in giro casi rari, perché l'unica grazie mille. Prego. L'unica sono le aziende di prodotto, cioè le aziende di prodotto allora hai tutto questo sistema così, però già che uno inizia ad avere uno schema di uno standard, cioè, mi basta questi due, per me già inizia ad essere un successo in alcuni casi. Va bene, ragazzi, se non c'è altro ce ne andiamo a dormire, almeno mi arrestano se vado fuori alle 11 di sera, perché sto ancora in ufficio, grazie, grazie mille Giuseppe per il tempo, la disponibilità e tutta la condivisione che ci hai fatto. Vi ricordo che le slide saranno disponibili sempre sul nostro GitHub, come diceva Giuseppe, il repo con la demo lo trovate sul suo account e vi ricordo che abbiamo già schedulato l'appuntamento di maggio, previsto per il 5 maggio parlerà Manuel. Ad oggi è un evento fisico, ma come sapete la situazione molto probabilmente ci porterà a organizzarlo nuovamente online, quindi feedback su questo evento sono super benvenuti in modo da migliorare un po' l'esperienza. Era un esperimento, siamo stati il primo pug a fare l'incontro online, quindi ci sono stati degli intoppi, sicuramente possiamo migliorare se ci date feedback, ci fa sempre molto molto piacere. E direi buonanotte. Il repository per Alessandro adesso li metto pubblici, adesso è privato di pubblico e le slide invece le metto nel repository quello del pug, come ha già detto Nicola. Magari mettiamo il link anche lì su GitHub nella issue del pug così abbiamo tutti i riferimenti del repo e delle slide. Sì, magari nelle slide adesso metto il link al repository così ci abbiamo tutto quanto linkato. Perfetto. Va bene, ragazzi, grazie per la partecipazione. Il video beh, su YouTube. Allora, per il video vi faccio sapere perché poi Alessandro è anche lui dentro il circuito dei pug e parliamo con i ragazzi del GRUSP e capiamo dove condividerlo e su quale piattaforma e con quali con quale gestione. Esatto. Poi se ci seguite su Facebook pubblichiamo tutti gli aggiornamenti ci stiamo organizzando anche per Twitter e LinkedIn quindi cerchiamo di raggiungervi il più possibile. E grazie ancora ragazzi e grazie mille e grazie a tutti. Ciao ragazzi buonanotte ciao a tutti grazie ciao ciao grazie buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti